Incidente oggi pomeriggio intorno alle 13.50 lungo la strada panoramica del Colle Ardizio che collega Pesaro a Fano. Nei pressi dell'ex ristorante Dalceo due auto, un Alfa Romeo con alla guida un ragazzo trentenne e una Lancia Ypsilon con al volante una signora cinquantenne si sono scontrate frontalmente, forse a causa di un sorpasso azzardato. Entrambi i conducenti delle auto sono rimasti feriti, la situazione è peggiore però per la cinquantenne che è rimasta incastrata nel veicolo accusando forti dolori alle gambe e per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che dopo averla stabilizzata l'hanno estratta dall'autovettura ed è stata subito trasportata al vicino ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono in fase di accertamento, il ragazzo invece ha riportato ferite più lievi. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pesaro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Polizia Municipale di Pesaro La Polizia Municipale di Pesaro